Penso che in questo momento è importantissimo conoscere bene la rosa, conoscere bene anche i giocatori individuali. Per l'istante è importante conoscere le individualità, conoscere tutti i giocatori. Nel calcio della nazionale non c'è tanto tempo per subito buttare tante idee o presentare tante idee e subito migliorare tutto quanto. Sur le plan nazionale non è possibile poter fixare dei obiettivi a court terme. E' molto importante adesso in questo corto periodo conoscere i giocatori sul campo ma anche fuori campo parlando l'insieme. Per l'istante è molto importante poter evoluire i giocatori sui terreni per poter améliorare ciò che è migliorato. Per fare certe regole che valgono per tutti quanti. E' importante fixare certe regole che sono le stagione per tutti. E capire che questa squadra ha la buona potenzialità ma solo lavorando solo anche in questi pochi allenamenti si possono ottenere i compiti dovuti. E' importante affermi che questa squadra ha la buona potenzialità che bisogna ovviamente cercare di migliorare per ottenere i obiettivi più grandi.